Si combatte a quando si lavora a contatto pieno in maniera non collaborativa perché specificiamo c'è un allenamento quello di studio di base collaborativo dove si sa quello che si andrà a fare e poi queste tecniche vanno applicate in maniera non collaborativa quindi con attacchi improvvisi attacchi non coordinati dove ecco come stiamo vedendo adesso dove in quel caso utilizziamo caschi con visiera in pvc antisfondamento utilizziamo guantoni perché va bene fare un allenamento duro ma è stupido farsi male in palestra magari rompersi il naso così come è stupido non poter mai provare la tecnica fino in fondo senza sapere veramente se sono in grado di portarla nell'esame di cintura nera appunto bisogna affrontare 10 avversari consecutivamente in round a due minuti l'obiettivo non è vincerli tutti l'obiettivo è dimostrare a me o all'esaminatore di turno che sei in grado di gestire le tue forze di gestire la tua emotività fino alla fine quindi l'obiettivo non è vincerli ma arrivare in fondo far vedere che riesce ad usare le forze le energie fino all'ultimo incontro fino all'ultimo round che devi fare quella la vera vittoria è una sfida contro se stessi non è una sfida contro gli altri contrariamente a quello che può apparire da un esterno